Good morning ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il professor Betti, insegnante di scuole medie e youtuber. Qui sotto potete trovare tutti i miei contatti per quanto riguarda Instagram e il mio blog che spero possiate seguire. Oggi vi voglio parlare di un evento molto importante che riguarda la storia praticamente attuale. Infatti oggi vi parlerò della guerra fredda. Lo farò in maniera abbastanza riassuntiva concentrandomi sugli inizi e sulle tappe principali, quelle che riguardano appunto i momenti in cui la guerra stava per diventare una guerra calda. Come sempre preparo il powerpoint e cominciamo con la lezione. Oggi quindi analizzeremo quali sono le tappe principali della guerra fredda. In un video precedente ho già analizzato quelli che sono gli inizi della guerra fredda, dicendo che non c'è una data ufficiale, perché non essendo una guerra vera e propria non possiamo neanche da farla esattamente. Gli storici si dividono un po' fra questi tre anni che vi ho inserito. Infatti già nel 1945, durante la seconda guerra mondiale, alla conferenza di Potsdam, i due grandi alleati, Unione Sovietica e Stati Uniti avevano iniziato ad avere i primi contrasti. E quindi c'è chi dice che già la fine della seconda guerra mondiale abbia portato proprio all'inizio della guerra fredda. Ma tra i vari eventi anche il 1947 è considerato uno dei principali, tanto che ad esempio Wikipedia mette proprio il 1947 come data di inizio, perché l'Unione Sovietica si oppone al piano Marshall, soprattutto per quanto riguarda i suoi paesi alleati nell'est Europa. Cioè fa sì che i suoi paesi alleati, Bulgaria, Romania, Polonia, eccetera, non entrino all'interno del piano Marshall, che in realtà era aperto a tutti i paesi dell'Europa che volevano appunto unirsi a questo piano. Ma l'URSS si oppose. Un altro momento storico importante è sicuramente il 1948, quando i sovietici litigano con gli americani per come gestire la Germania e impongono un blocco sovietico sulla città di Berlino. Blocco che poi venne aggirato dal ponte aereo americano che fece fallire così la strategia russa. Adesso andremo a vedere quelli che sono i momenti più caldi della guerra fredda, analizzandoli uno per uno nel dettaglio. Ovviamente non è una spiegazione di tutta la guerra fredda, è un periodo lunghissimo e che ha un sacco di sfaccettature. In questo video mi concentro in particolare sui momenti appunto caldi, cioè quelli in cui sembrava che la guerra stesse per scoppiare da un momento all'altro. E quindi vi parlerò prima della guerra di Corea, che avvenne tra il 1950 e il 1953, poi la crisi dei missili di Cuba, la guerra del Vietnam tra il 64 e il 73 e poi infine la guerra in Afghanistan tra il 1979 e il 1989. Iniziamo quindi dalla guerra di Corea. La Corea era un paese che era stato diviso in due, in maniera artificiale, dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica. Fu proprio su una cartina che venne tracciato un rigo all'incirca all'altezza del 38esimo parallelo da parte degli Stati Uniti, che mandarono la proposta di dividere questa nazione in questo modo. Anche perché prima la Corea faceva parte del Giappone, per cui era una nazione che non era mai esistita ancora. L'Unione Sovietica appoggiò l'idea americana e così si vennero a formare due Coree. Una Corea del Nord guidata da un dittatore comunista, Kim Il-sung, e una Corea del Sud invece guidata da un presidente filoamericano, Syngman Re. Se non che, diciamo che la Corea del Nord aveva come obiettivo quello infatti, il 25 giugno del 1950, l'esercito della Corea del Nord iniziò ad invadere la Corea del Sud. Prima di fare questo, però, il dittatore, Kim Il-sung, chiese il permesso a Stalin e a Mao Zedong, che era da poco diventato il nuovo presidente comunista della Cina. I due dettero l'ok e così iniziarono le operazioni militari. La guerra, come vedete, durò tre anni fu una guerra molto dura che portò a grandi perdite da una parte e dall'altra, anche se poi alla fine la situazione rimase praticamente invariata. Infatti vi ho scritto che il 27 luglio del 1953 venne firmato l'armistizio e, da un punto di vista territoriale, le modifiche furono minime. Infatti la situazione rimase grossomodo invariata, anche se, diciamo, coloro che persero di più da un punto di vista morale furono proprio i comunisti. Questo perché la guerra l'avevano voluta loro, non erano riusciti a vincerla e anche l'Unione Sovietica non aveva avuto, diciamo così, un ruolo così importante all'interno della guerra, dimostrandosi più debole probabilmente degli Stati Uniti. E quindi possiamo dire che fu un fallimento più per l'Unione Sovietica che per gli USA. Nel 1962, invece, ci fu uno dei momenti, forse, in cui più si andò vicini ad una terza guerra mondiale, la crisi dei missili di Cuba. Infatti, in questa isola caraibica, che come vedete dalla cartina si trova molto vicino alle coste degli Stati Uniti, era nata un nuovo Stato comunista. Infatti, nel 1959, aveva preso il potere, dopo una guerra civile, Fidel Castro, aiutato anche da Che Guevara, che è uno dei combattenti più famosi di questa guerra. Insomma, Fidel Castro riuscì a creare una dittatura comunista in quest'isola, molto vicina appunto agli Stati Uniti. Stati Uniti ovviamente non videro di buon occhio il fatto di avere un paese comunista e alleato all'Unione Sovietica così vicino. Tanto che già nel 1961 cercarono di fare un colpo di Stato per cacciare Fidel Castro, fallendo tragicamente. I due protagonisti però della crisi dei missili di Cuba furono i presidenti degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Negli Stati Uniti, dal 1960, il presidente era John Fitzgerald Kennedy, che aveva vinto le elezioni, era un democratico, quindi di sinistra, molto giovane e si pensava che con lui gli Stati Uniti avrebbero potuto cambiare la propria storia, diciamo. Dall'altra lata, noi invece abbiamo Nikita Khrushchev, che era succeduta a Stalin, morto diversi anni fa e dopo una lotta interna al partito comunista, come avveniva spesso quando moriva il dittatore, come era successo anche ai tempi di Lenin, alla fine ne uscì proprio Khrushchev. E tra i due ci fu questa grandissima tensione. Perché? In pratica i sovietici avevano deciso di inviare a Cuba dei missili per mettere, diciamo, sotto tiro gli Stati Uniti. Questa decisione non era stata presa però a caso. Era stata presa perché gli stessi Stati Uniti avevano piazzato dei missili in Europa, in particolare in Italia, in Grecia e in Turchia, missili che puntavano proprio verso l'Unione Sovietica. Quindi, diciamo, per una sorta di parità anche Khrushchev decise di mandare dei missili in quell'isola così da poter colpire gli Stati Uniti nel caso in cui gli Stati Uniti avessero colpito l'Unione Sovietica. Ci furono un sacco di litigi, si arrivò appunto a dei momenti di altissima tensione con l'esercito americano pronto a sbarcare a Cuba e a bloccare le navi russe che intanto stavano portando questi missili a Cuba. Alla fine la leggenda vuole che una telefonata diretta tra Kennedy e Khrushchev portò a una soluzione pacifica. Khrushchev decise di ritirare i propri missili da Cuba. Allo stesso tempo John Fitzgerald Kennedy fece fare lo stesso agli Stati Uniti in Europa, anche se lo fece in gran segreto, cioè senza dirlo a nessuno, mentre Khrushchev lo fece in maniera aperta. Facevava parte del patto anche il fatto che gli Stati Uniti si impegnavano a non intervenire più a Cuba e non cercare di rovesciare il governo di Fidel Castro. Ma il momento forse più importante di tutti, quello più famoso, è sicuramente la guerra del Vietnam. Nel caso di questa guerra sicuramente ve ne parlerò meglio in un altro video, però qui vi faccio un riassunto molto breve per parlarvi delle cose principali. Innanzitutto c'è da dire che la situazione era molto simile a quella che si era creata in Corea. Infatti Unione Sovietica e Stati Uniti avevano deciso di dividere il Vietnam in due parti. Il Vietnam fino al 1954 era stata una colonia francese. Si era però liberata e aveva avuto un ruolo molto importante in questa liberazione il partito comunista vietnamita. Ci fu un congresso di pace, la pace di Ginevra, in cui si decise di dividere il Vietnam in due parti. La zona nord comunista guidata dal leader del partito Ho Chi Minh. Mentre nel sud ci sarebbe stato un Vietnam a filo americano guidato dal presidente Ngo Ndin Ndiem. Questi due Vietnam quindi dovevano rimanere in teoria separati. Cosa che però non avvenne. Anche in questo caso furono i comunisti a dare il via alla guerra e invasero il Vietnam del sud. A quel punto il presidente americano che era diventato Johnson era diventato Johnson perché come probabilmente saprete c'era stato l'omicidio di John Kennedy e quindi Johnson che era il vice presidente era il vice di Kennedy divenne presidente degli Stati Uniti e per paura che i comunisti riuscissero a conquistare il sud del Vietnam decise piano piano di inviare l'esercito. Ma questo intervento americano fu fallimentare. Infatti l'esercito americano non riuscì a sconfiggere l'esercito comunista nonostante la grande differenza di potenza militare, la grande differenza di armamenti eccetera e anzi entrò in una grande crisi. Questo anche perché se nacque un movimento pacifista all'interno degli Stati Uniti e cominciò a chiedere il ritiro delle truppe per una guerra che gli stessi americani non capivano perché si venisse combattuta. Alla fine dopo appunto questo intervento ormai disastroso il nuovo presidente Richard Nixon che divenne presidente ai danni proprio di Lyndon Johnson proprio perché diciamo la politica del presidente americano precedente era stata così fallimentare, lui era democratico, Johnson, persero le elezioni democratici e a vincerle fu il repubblicano Richard Nixon e una delle sue prime promesse fu proprio quella di portare via gli americani dal Vietnam, cosa che fece nel 1973. Firmando la pace di Parigi decise di abbandonare il Vietnam del Sud. La guerra continuò un altro paio d'anni, stavolta combattuta solo tra Vietnam del Nord e Vietnam del Sud e fu vinta in questo caso dai comunisti e quindi questa fu una sconfitta per quanto riguarda gli Stati Uniti. L'ultima guerra combattuta fu proprio diciamo al limite verso la fine della guerra fredda che si è concluse nel 1989. Questa volta lo scenario fu l'Afghanistan. In Afghanistan c'era un regime comunista che però venne messo in difficoltà da una lunga guerra civile e alla fine l'Unione Sovietica decise di intervenire in Afghanistan inviando l'esercito per aiutare il governo comunista. In pratica per molti storici l'Afghanistan è stato un po' quello che è stato il Vietnam per gli Stati Uniti. Infatti cosa è successo? In questo caso gli statunitensi decisero di intervenire però in maniera indiretta. Infatti il presidente Carter prima e poi il presidente Reagan che diventò presidente nel 1980 decisero di mandare degli aiuti ai Mujahideen che erano questo partito politico, definiamolo così, con una forte impronta islamica quindi molto legata alla religione che però si opponeva ai comunisti e quindi Carter prima e Reagan poi cominciarono a inviare armi e aiuti militari ai Mujahideen per far sì che sconfigcessero i comunisti. Questa volta impararono un po' diciamo la lezione del Vietnam e decisero di non inviare direttamente l'esercito. Alla fine i sovietici furono costretti a ritirarsi e a lasciare il paese. Anche in questo caso dopo il ritiro dall'89 al 92 la guerra proseguì però alla fine i comunisti persero e i Mujahideen ebbero in mano il paese. Questa quindi fu una sconfitta abbastanza forte per quanto riguarda il movimento comunista tra l'altro poi nell'89 ci fu la caduta del muro di Berlino e quindi poi anche un po' la fine di questa guerra fredda che si era protratta per quasi 50 anni. Bene come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.